Le biblioteche comunali di Modena, nate 50 anni fa con la prima biblioteca di quartiere a San Damaso, contano oggi una ventina di servizi fra biblioteche generaliste specializzate e punti di lettura, e vantano 35.000 iscritti con 450.000 prestiti annui. Benché diverse dal passato, restano fedeli alle finalità originarie. Apertura del servizio a tutti, gratuità, accessibilità, attenzione alle innovazioni tecniche e culturali. Oltre ai classici libri a stampa, in biblioteca si trovano CD, DVD, audiolibri e postazioni internet. Inoltre, si possono frequentare spazi diversificati per le proprie esigenze, la piazzetta, con i periodici di tutto il mondo, l'area bebè, l'area internet e le aree per vedere film e ascoltare CD. Si possono consultare i cataloghi e scaricare ebook, musica, video e periodici. Il progetto Facilitatori Digitali aiuta chi vuole familiarizzare con il mondo di internet. Al ricco patrimonio disponibile di circa 350.000 documenti, si affiancano numerose attività culturali, letture e ascolti musicali per bambini, gruppi di lettura per adulti, itinerari didattici, incontri con autori contemporanei, occasioni per conoscere i cambiamenti sociali e le culture del mondo. Grazie a tutti.